Il ciclo di conferenze e gli appuntamenti del mercoledì mattina dell'Unione Industriale ha ospitato gli storici dell'arte Arabella Cifani e Franco Monetti per un viaggio nella storia e nell'arte della belle epoca torinese. Con immagini e un filmato, i relatori hanno illustrato al pubblico il Palazzo dei Piemontesi, ovvero Palazzo Lascaris, e raccontato alcune scoperte relative alle vicende storiche e alla ricchezza decorativa dell'edificio, oggi sede del Consiglio regionale del Piemonte.